Massimiliano Monsignori, tecnico del Manfredonia, complimenti per la vittoria meritata, primo tempo equilibrato, poi quando siete riusciti ad andare avanti, da lì non c'è stata più storia. Grazie innanzitutto per i complimenti. I primi dieci minuti del primo tempo sono stati più bravi i nostri avversari, giocavano con una velocità superiore, noi eravamo un pochino contratti, soprattutto nella fase di possesso, non riusciamo a giocare alla giusta velocità. Però credo che già dalla seconda metà del primo tempo noi abbiamo fatto molto bene, creando diverse occasioni già sul finale del primo tempo che non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo abbiamo avuto una percentuale realizzativa migliore e siamo riusciti ad andare avanti nel punteggio, poi chiaramente la partita si è messa in una situazione di più semplice gestione per noi, un pochino più complicata per i nostri avversari e siamo riusciti a arrotondare il punteggio e a finire in relativa tranquillità. Possiamo dire che avete ripreso in questa stagione un percorso che era stato interrotto nella passata stagione perché eravate in grossa rimonta, poi sappiamo tutti com'è andata, quindi immagino che la volontà è quella di restare nei piani alti della classifica. Sì esatto, l'idea era esattamente questa, cercare di confermare il maggior numero di giocatori possibili della nostra rosa per poter ripartire da dove avevamo finito. È chiaro che è difficile farlo perché ci sono otto mesi di inattività in mezzo e c'è un precampionato dove tutti abbiamo programmato amichevoli che per il 50-60% non abbiamo poi potuto sostenere. Per cui è difficile, però l'idea era esattamente questa, cercare di implementare l'organico già buono che avevamo con dei ragazzi che ci dessero quelle qualità che a nostro avviso ci mancavano per poter ambire a frequentare i piani alti della classifica, vedremo se ne saremo capaci. L'idea è questa. Sicuramente avete vinto su un campo non facile come quello del Cusmo Lise che è comunque una squadra che vuole confermarsi, vuole fare un buon campionato. Difficile, molto difficile. Giocare contro la squadra San Gennaro è molto difficile, molto difficile perché è una squadra che ha delle individualità importantissime nell'uno contro uno. Gioca in un modo molto particolare che mette in difficoltà, è difficile pressarli perché ripeto hanno questi due giocatori con delle qualità importanti. Se gli aspetti sono micidiali negli ultimi 15 metri, sono organizzati, solidi, è molto complicato. Per me questa squadra sarà una di quelle squadre che insieme a noi lotterà per un posto playoff, ne sono certissimo e qui difficilmente verranno a prendere punti tante squadre. Oggi è andata bene a noi ma le partite poi, sa benissimo che hanno uno sviluppo, ognuno ha il suo sviluppo, però per me il Cusmo Lise sarà una delle mine vaganti di questo campionato di A2. Grazie.